L'Associazione Interculturale Reciprocamente, in collaborazione con il Comune di Caltanissetta, assessorato alla cultura, organizza nella Sala Teatro dell'Istituto Capuana in Via Red Italia a Caltanissetta il primo Cineforum di Natale. Quattro incontri, da domenica 20 dicembre a mercoledì 23 dicembre e poi mercoledì 6 gennaio. Perché questa iniziativa? L'iniziativa è nata dall'idea di valorizzare il nostro territorio, di promuovere la solidarietà e il rispetto reciproco e soprattutto le relazioni sociali. Si tratta di un Cineforum proprio pensato per le famiglie, in particolar modo per i bambini che così potranno cogliere l'occasione per stare insieme e divertirci anche tramite le figure caratteristiche delle festività, quali Babbo Natale e la Befana. L'ingresso è gratuito, il primo Cineforum è il 20 dicembre, a che ora e cosa proietterete? Vi aspettiamo con i cuscini perché non ci saranno le sedie, è gratuito. I film sono A Christmas Carol del 2009, dalle 16.30 alle 18, il 20 dicembre e poi dalle 19 alle 21 la banda dei bambini Natale. Poi gli altri film sono proiettati il 21 dicembre, sempre dalle 4.30 alle 18, la zamba e la magia del Natale e la fuga del Natale dalle 19 alle 21. il 22 dicembre sarà proiettato Armini Superstar, mentre dalle 19 alle 21 è un elfo di nome Elf, mentre l'ultimo giorno sarà proiettato Winnie the Pooh sempre dalle 4.30 alle 18.30 e il miracolo nella 34. strada dalle 19 alle 21.30. Mentre per la Befana cosa avete organizzato? È previsto una tombolata e soprattutto distribuzione di dolcetti per i bambini, ma anche per i più grandi comunque. Quindi un'iniziativa gratuita per allietare le famiglie? Sì, sì, affinché comunque si riscopre proprio il simbolo del Natale, perché a giorno d'oggi ormai le famiglie non sono più come quelle tradizionali di una volta e proprio per questo motivo noi quattro insieme all'assessorato e all'assessore Castiglione ci siamo messi proprio di punta a fare questo progetto proprio per le famiglie e i bambini. Ci sarà pure la premiazione a fine tombolata.